qui adesso per esercizio di remote viewing e quindi adesso mi coprirò gli occhi con questa musica di sottofondo e cercherò di di capire cosa cosa c'è nel foglio ok mi copro con questo perchè ho solo questo è ok ho già seguito il corso di Daniele un po' di volte quindi più o meno so i passaggi che devo effettuare ok 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 allora allora ho visto in basso a sinistra a un certo punto apparire un un puntino rosso quindi a questo punto immagino che il colore il colore sia rosso e la figura geometrico e la figura geometrica sia un cerchio poi ho avuto l'impressione del numero 7 e poi mi è venuto così alla mente neve non so se perché non so se perché scrive spesso sulla chat ma boh la parola di quattro lettere per me è neve quindi quello che posso dire ripeto è colore rosso numero 7 la parola è neve e la figura geometrica è un cerchio e con questo chiudo e vedremo ciao